10 agosto 2015, quick video, prima che vado al lavoro, ho conosciuto questo weekend un ragazzo di 20 anni, 21 anni, eramo a una festa, anniversario di matrimonio di un mio amico, era domenica mattina, mi stanno dando un passaggio, tu cosa fai? Adesso vado a lavorare perché anche oggi si lavora, ma cosa fai? Lavoro in un call center, e mi sono detto che schifo, perché palle poi andare a lavorare domenica, facciamo sicurazioni di auto, chiamiamo il cliente, rispondiamo alle chiamate, più vendiamo più ci danno delle commissioni, è bello, mi piace, poi mi piace parlare con la gente, mi piace questo tipo di lavoro, intanto ultimo non capire, al che mi fa, perché io, il mio obiettivo è diventare un venditore di auto, e so che sul mio curriculum sarà importante avere un'esperienza di questo tipo, dove ho un telefono a 500 persone al giorno, dove intrattengo i clienti, capisco cosa voglio, cerco in qualche modo di farmi gli amici, di creare una relazione, ed è importante farlo. E mi sento, cazzo, vedi che sono proprio avanti questi inglesi, perché qualsiasi altro intenzione avrebbe detto, oh, il call center è una merda, me ne faccio di far schifo, il mio capo è uno spoglio, non mi pagano niente, non so cosa ci sto a fare, mi ha rinnovato, invece questo qua metto, lo faccio con entusiasmo, sapendo che presto, fra sei mesi, un anno o due, non lo so, andrò a fare, mi candiderò per una cosa che, qui aspiro a lavorare nel settore delle automobili, della vendita delle auto, e visto che questo qua c'era anche la bella barlantina, sicuramente, è la cosa giusta per lui. E nulla, aggiungo anche uno spoiler, assicurazioni, fuori Londra, ragazzo di vent'anni, spaga dodici pound all'ora, più commissioni, vi posso dire solo che si avvicina più ai 2.000 pound al mese che ai 1.500, detto ciò, vi saluto e vi invito a riflettere sul fatto che bisogna lamentarsi di meno e tirarsi sulle maniche e fare come fanno qua, ciao, buona giornata.